Annabeth. Annabeth aveva visto diverse cose strane in vita sua, ma mai una pioggia di auto. Mentre il tetto della grotta crollava, fu accecata dalla luce del sole. Intravide l'argodue che aleggiava sopra di lei. Probabilmente avevano usato le baliste per praticare un buco per terra. Pezzi di asfalto grandi come la porta di un garage crollarono giù insieme a sei o sette auto. Una per poco non schiacciò la tena partenos, ma l'aura scintillante della statua agì come un campo di forza facendo rimbalzare la macchina. Peccato che lo fece in direzione della semidea. Annabeth saltò di lato ricadendo sulla caviglia rotta. Rischiò di svenire dal dolore, ma si girò sulla schiena in tempo per vedere una Fiat 500 rosso brillante che si schiantava sulla trappola di seta di Aracne, sfondando il pavimento della grotta e scomparendo insieme al gigantesco cilindro di seta. Aracne precipitò, urlando come un treno merci in rotta di collisione, ma i suoi strilli svanirono alla svelta. Tutto intorno, altri calcinacci sfasciarono il pavimento, crivellandolo di buchi. La tena partenos rimase intatta, anche se il marmo sotto il piedistallo si era trasformato in un reticolo di crepe. Annabeth era coperta di ragnatele. Le pendevano dalle braccia e dalle gambe come i fili di un burattino, ma in qualche modo, chissà come, nessuno dei calcinacci l'aveva colpita. Avrebbe tanto voluto credere che la statua l'avesse protetta, ma sospettava che fosse stata solo fortuna. L'esercito di ragni era scomparso. O erano fuggiti nell'oscurità da cui erano venuti, oppure erano caduti nell'abisso. Mentre la luce del sole inondava la grotta, gli arazzi di Arachne lungo le pareti si ridussero in polvere, una visione quasi insopportabile per Annabeth, soprattutto nel caso dell'arazzo che raffigurava lei e Percy. Ma niente di tutto ciò ebbe più importanza, quando sopra di lei udì la voce di Percy. «Annabeth, sono qui!» si inghiozzò. Il terrore sembrò abbandonarla in un unico enorme grido. Mentre Largo 2 scendeva, Annabeth lo vide sporgersi dal parapetto. Il suo sorriso era più bello di qualsiasi arazzo lei avesse mai visto. La stanza continuava a tremare, ma Annabeth riuscì a rimanere in piedi. Il pavimento sotto di lei sembrava stabile per il momento. Non aveva più lo zaino, né il computer di Dedalo. Anche il pugnale di bronzo, che aveva dall'età di sette anni, era sparito, probabilmente caduto nella voragine. Ma non le importava. Era viva. Si spostò lentamente verso lo squarcio provocato dall'automobile. Pareti di pietra frastagliata sprofondavano nell'oscurità fin dove arrivava lo sguardo. Alcune piccole sporgenze si protendevano qua e là, ma Annabeth non ci vide niente sopra, soltanto fili di seta di ragno che calavano lungo i fianchi, simili a decorazioni natalizie. Si domandò se Arachne le avesse raccontato la verità. Il ragno era sprofondato dritto nel tartaro. Cercava di esserne contenta, ma l'idea la intristiva. Arachne aveva davvero creato cose bellissime, soffriva ormai da secoli. I suoi arazzi si erano appena disintegrati. Dopo tutto ciò, sprofondare nel tartaro sembrava una fine troppo crudele. Annabeth era vagamente consapevole che il largo due si stava fermando a una decina di metri dal pavimento. Dalla nave calarono una scaletta di corda, ma lei rimase imbambolata a fissare le tenebre. Poi, all'improvviso, Percy comparve accanto a lei e le prese una mano. L'allontanò delicatamente dalla voragine e la strinse tra le braccia. Annabeth seppellì la faccia nel suo petto e scoppiò a piangere. «Va tutto bene?» disse il figlio di Poseidone. «Siamo insieme adesso». Non aveva detto «stai bene» o «siamo vivi». Dopo tutto quello che avevano passato nell'ultimo anno, Percy sapeva che la cosa più importante era che loro due fossero insieme. Annabeth lo adorò per averlo detto. I loro amici gli si radunarono intorno. C'era anche Nico di Angelo, ma Annabeth era talmente confusa che non ne fu sorpresa. Le sembrò giusto che fosse lì con loro. «La tua gamba!» Piper si inginocchiò ed esaminò la steccatura con il pluriball. «Cos'è successo?» Lei cominciò a raccontare. Parlare era difficile, ma man mano che procedeva, a poco a poco, fu tutto più facile. Percy continuava a tenerle la mano e anche questo contribuì a farla sentire più sicura. Alla fine del racconto, gli amici erano tutti a bocca aperta. «Dèi dell'Olimpo!» esclamò Jason. «Hai fatto tutto da sola? Con una caviglia rotta?» «Beh, solo una parte con la caviglia rotta.» Percy sorrise. «Hai convinto Aracne a tessersi la trappola da sola? Lo sapevo che eri brava, ma per la divina era! Ce l'hai fatta?» «Generazioni di figli di Atena ci hanno provato senza riuscirci. Tu hai trovato l'Atena Parthenos.» Tutti si voltarono a guardare la statua. «Cosa ce ne facciamo?» domandò Frank. «È enorme!» «Dobbiamo portarla con noi in Grecia», disse Annabeth. «La statua è potente. C'è qualcosa in lei che ci aiuterà a fermare i giganti.» «La rovina dei giganti si erge pallida e dorata, e sarà vinta col dolore in una prigione intricata», ricordò Hazel, guardando Annabeth con ammirazione. «Era la prigione di Aracne? E tu l'hai convinta a tesserla con l'inganno.» «Con tanto dolore», pensò Annabeth. Leo sollevò le mani. Con un dito tracciò una cornice intorno ad Atena, come se stesse prendendo le misure. «Beh, forse ci vorrà qualche modifica, ma credo che riusciremo a farla passare dalle porte della scuderia. Se ne spunta fuori un pezzo, forse dovrò legarle una bandiera ai piedi o qualcosa del genere.» Annabeth era brividì. Immaginò l'Atena Parthenos sbucare dalla trireme con un cartello sul piedistallo, carico ingombrante. Poi le vennero in mente gli altri versi della profezia. «Il respiro dell'angelo che ha la chiave dell'eterna morte, i gemelli soffocheranno, se lo vorrà la sorte.» «E voi cosa mi dite?» domandò. «Cosa è successo con i giganti?» Persi le raccontò del salvataggio di Nico, dell'apparizione di Bacco e del combattimento con i gemelli al Colosseo. Nico non parlò molto, sembrava reduce da un mese e mezzo nel deserto. Persi spiegò quello che Nico aveva scoperto sulle porte della morte e di come dovessero venire chiuse su tutti e due i fronti. Nonostante la luce del sole che filtrava dall'alto, quella notizia fece ripiombare la grotta nell'oscurità. «Dunque il versante mortale si trova nell'epiro», fece Annabeth. «Almeno lì possiamo andarci.» Nico fece una smorfia. «Ma il problema è l'altro lato, il tartaro.» La parola sembrò riecheggiare nella sala. L'abisso alle loro spalle sprigionò una raffica di aria fredda. Fu allora che Annabeth ne fu certa. L'avoragine conduceva davvero dritta negli inferi. Anche Persi dovette averla percepita e la spostò un po' più lontano dal bordo. Le braccia e le gambe di Annabeth si trascinarono dietro la seta dei ragni come lo strascico di un vestito da sposa. Lei rimpianse di non avere più il pugnale per tagliare via quella robaccia. Stava quasi per chiedere a Persi di usare vortice, ma lui la precedette. «Bacco ha detto che il mio viaggio sarà più duro di quanto mi aspetti.» «Non so perché...» La sala cigolò. L'Atena Parthenos si inclinò su un lato. La testa rimase impigliata in uno dei cavi di sostegno di Aracne, ma la base di marmo sotto il piedistallo cominciò a sgretolarsi. Annabeth si sentì a salire dalla nausea. Se la statua fosse caduta nell'abisso, tutti i suoi sforzi sarebbero stati vani. La grande impresa sarebbe fallita. «Mettetela al sicuro!» gridò. I ragazzi afferrarono il concetto al volo. «Jung, portami subito al timone!» urlò Leo. «Edge la suda solo!» Frank si trasformò in un'aquila gigante e i due ragazzi si librarono verso la nave. Jason cinse un braccio intorno alla vita di Piper, poi si girò verso Persi. «Ragazzi, torno da voi tra un secondo!» Evocò il vento e schizzò in aria. «Il pavimento non reggerà!» esclamò Hazel. «Raggiungiamo la scaletta!» Pennacchi di polvere e ragnatele esplosero dai buchi nel pavimento. I cavi di sostegno di seta vibrarono come le corde di una chitarra gigantesca e cominciarono a saltare. Hazel si lanciò verso la base della scaletta di corda e fece cenno a Nico di seguirla, ma lui non era nelle condizioni di scattare. Persi strinse più forte la mano di Annabeth. «Andrà tutto bene!» sussurrò. Alzando gli occhi, lei vide che l'argodue stava lanciando delle funni verso la statua. Una si strinse al collo dell'Atena Parthenos come un cappio. Leo gridava ordini dal timone, mentre Jason e Frank volavano da una corda all'altra, cercando di fissarle. Nico aveva appena raggiunto la scaletta, quando un dolore lancinante percorse la gamba ferita di Annabeth, lasciandola senza fiato. «La ragazza vacillò?» «Che c'è?» domandò Persi. Annabeth cercò di zoppicare verso la scaletta. «Ma perché invece andava all'indietro?» «Le gambe non la ressero più e lei cadde in avanti.» «La caviglia!» gridò Hazel dalla scaletta. «Taglia, taglia!» Annabeth aveva la mente obnubilata per il dolore. «Tagliare la caviglia?» Neanche Persi capì cosa Hazel volesse dire. Poi qualcosa strattonò Annabeth, trascinandola verso l'abisso. Persi si lanciò e la ferrò per un braccio, ma venne trascinato insieme a lei. «Aiutateli!» gridò Hazel. Annabeth intravide Nico che arrancava verso di loro, Hazel che tentava di liberare la spada dalla scaletta. Gli altri erano ancora concentrati sulla statua e l'urlo di Hazel si confuse tra le grida generali e il rimbombo della caverna. Annabeth arrivò sull'urlo dell'abisso e si inghiozzò. Le gambe scivolarono giù. Troppo tardi si rese conto che cosa stava succedendo. Era intrappolata nella seta del ragno. Avrebbe dovuto tagliarla subito. Aveva pensato che fosse solo una massa informe, ma con tutto il pavimento ricoperto di ragnatele, non si era accorta di avere un filo stretto intorno a un piede. Un filo il cui altro capo scendeva dritto nell'abisso. Era attaccato a qualcosa di pesante che pendeva giù nell'oscurità. Qualcosa che la tirava dentro. «No!» mormorò Persi quando capì cosa stava succedendo. «La mia spada!» Ma non poteva raggiungere vortice senza lasciare il braccio di Annabeth. E lei aveva esaurito le forze. La figlia di Atena scivolò oltre il bordo. Persi cadde con lei. Annabeth andò a sbattere contro qualcosa e perse i sensi per il dolore. Quando tornò in sé, si accorse che era caduta nell'abisso e che adesso era sospesa nel vuoto. Persi era riuscito ad aggrapparsi a una sporgenza. Con una mano si reggeva, mentre con l'altra la stringeva per il polso. Ma la forza di trazione esercitata sulla gamba di Annabeth era troppo forte. «Non hai scampo!» disse una voce nelle tenebre. «Io vado nel tartaro e tu verrai con me!» Annabeth si chiese se avesse realmente sentito la voce di Aracne o se fosse solo nella sua testa. L'abisso tremò. Persi era l'unica cosa che impediva ad Annabeth di precipitare e anche lui si reggeva malapena su una sporgenza grande come uno scaffale di libri. Nico si affacciò sull'orlo dell'abisso e tese una mano, ma era troppo distante. Hazel gridava per chiamare gli altri, ma seppure l'avessero sentita nel caos generale, non avrebbero mai fatto in tempo. Annabeth aveva la sensazione che la gamba le si staccasse dal corpo. Il dolore tinse tutto di rosso. L'energia degli inferi la strattonava come una forza di gravità oscura. Non aveva le forze sufficienti per lottare. Capì di essere ormai troppo in basso per essere salvata. Persi, lasciami andare, supplicò con voce roca. Non puoi tirarmi su. Lesse la disperazione nel suo sguardo. Moi, ribatte lui. Era sbiancato per lo sforzo. Alzò gli occhi verso Nico, quattro metri sopra di lui. Dall'altro lato, Nico! Ci vediamo là! Capito? Nico sgranò gli occhi. Ma portali là, gridò Persi. Promettimelo! Promesso! Sotto di loro, la voce rise nell'oscurità. Sacrifici! Splendidi sacrifici per svegliare la dea. Persi strinse la presa sul polso di Annabeth. Aveva il viso scarno, graffiato e macchiato di sangue e i capelli ricoperti di ragnatele. Ma quando incrociò il suo sguardo, Annabeth pensò che non fosse mai stato così bello. Rimarremo insieme, le promise. Non te ne andrai via da me. Mai più. Solo allora Annabeth capì cosa stava per accadere. Un viaggio di sola andata. Una caduta molto dura. Basta che stiamo insieme, replicò. Annabeth, tu di Nico e Hazel che continuavano a chiamare aiuto, vide la luce del sole in alto, molto in alto. Forse per l'ultima volta. Poi Persi lasciò andare la minuscola sporgenza cui era grappato. E insieme, tenendosi per mano, precipitarono nelle tenebre senza fine.